La Svezia è ufficialmente fuori da questi mondiali di calcio 2018, esce dunque l'IKEA, scusate, la Svezia, l'Apsus, non tanto voluto in realtà, esce quindi dai mondiali la Svezia ai quarti di finale, battuta 2-0 dall'Inghilterra, un'Inghilterra che alla fine fa il suo compitino e arriva così in semifinale, se non vado a rato, da tantissimi anni che l'Inghilterra non raggiunge una semifinale dei mondiali, purtroppo la partita non l'ho vista ragazzi, perché sono stato a lavoro fino ad adesso, quindi tra l'altro state vedendo il video sicuramente in orario proibitivo, ma non riuscivo a portarvelo prima. Una partita non l'ho vista, posso soltanto commentarvi quello che è il risultato, il risultato finale che alla fine, come posso dire, è anche normale, la vigilia ovviamente di una competizione così importante, non pensi che la Svezia possa arrivare ai quarti di finale, la Svezia è già arrivata diciamo al massimo che poteva raggiungere, cioè appunto questi quarti, e l'Inghilterra invece direi che merita di essere in questo momento tra le quattro più forti del mondo, perché è una squadra con tantissimi giovani, una squadra con giovani tra l'altro di esperienza, con fuori classe, come appunto Henry Kane, è sicuramente una delle papabili vincitrici di questo torneo. Sinceramente tra Francia-Belgio, perché infatti il Belgio ieri ha sconfitto il Brasile, Russia-Croazia-Inghilterra, non saprei chi alla fine potrebbe arrivare a vincere questo mondiale. Credo che tra tutte la più quotata sia ovviamente la Francia, però una bella semifinale magari, Francia-Belgio e una tra appunto Croazia e Russia devono ancora giocare in questo momento, ma spero, credo, Croazia, credo, adesso gliel'ho tirata, gliel'ho gufata la Croazia, comunque credo Croazia e Inghilterra sono comunque, se ci pensate, a parte la Francia, le altre tre comunque sono nomi che non ti aspetteresti in una semifinale di mondiali. Sicuramente sarà un'europea a questo punto, sicuramente sarà una squadra europea a vincere il mondiale, ma questo lo si sapeva già da ieri, con l'eliminazione del Brasile. Non ho fatto il video di ieri, chiedo scusa, ero intento a esultare per la vittoria del Belgio, perché chi mi conosce da tantissimo sa che io tifo Belgio per quanto riguarda le competizioni oltre all'Italia, ho sempre giocato, ogni competizione che siano mondiali o europei, ho sempre giocato 10 euro sulla vittoria del Belgio. Vuoi vedere che stavolta c'è a Zecco davvero? Speriamo, incrociamo le dita. Quindi sono tantissimi, veramente da tantissimo tempo che penso che il Belgio abbia un organico che possa arrivare a vincere una competizione importante, ragazzi, a campioni stratosferici come Lukaku, Hazard, De Bruyne, Fellaini, Courtois, insomma ha dei giocatori, non dico i più forti del mondo, però insomma ha dei giocatori niente male, come organico hai niente male. Vedremo che cosa succederà tra l'altro tra Belgio e Francia e vedremo che cosa succederà stasera fra Croazia e Russia. Se questo video raggiungerà un top numero di mi piace, vedrò di portarvi anche il post partita di Russia-Croazia. Fatemelo sapere magari in un commento qui sotto. Per il resto, ragazzi, sono contento che la Svezia sia uscita, devo essere sincero, sono contento perché veramente avrei bruciato tantissimo a vederla vincere il mondiale, quindi praticamente in faccia a noi ce l'avrebbero vinto, quindi va bene così. L'Inghilterra ci può stare vincere un mondiale, dai l'Inghilterra ci sta. Dal 66 non vince un mondiale l'Inghilterra, quindi dai almeno uno dopo quello lo potranno anche vincere. Mi brucierebbe di più per i francesi, devo ammettere, mi brucierebbe di più per i francesi, ma questo è un altro discorso. Fatemi sapere ragazzi se volete anche il post partita di Russia-Croazia.